Nelle puntate precedenti Adesso dovrai fare un ruoco con me Mi toccherà fare sto gioco strano A presto, a presto, a presto Secondo giorno qui alla Gamescom di Colonia In questo momento mi trovo nella business area Tra il milione 4.2 e 5.2 Oggi un'altra carrellata di giochi incredibile Ok, ho fatto tutto quello che mi hai detto di fare Adesso per favore, mi ridai il mio biglietto di ritorno? Hai visto che eri brava a giocare a Pai dei Tre? Aspetta un attimo, cos'è che hai detto? Ripeti? Ripeti un attimo? Ho detto, hai visto che eri brava a giocare a Pai dei Tre? Ma... Ma eri te! Hai visto, eh? Che se ti impegnavi anche a Pai dei Tre Potevi dire la tua Ma Seri, ma vedi annate, n'affan... Boh, Seri Io non sono convinto Cioè, per me non fa neanche ridere E poi è assurdo Questi ci pagano per fare gli scemi alla Gamescom Devi lasciare fare Perché è venuto bene Fa ridere Perché fa ridere E sì, ci hanno pagato Ci ha pagato lo sponsor Boh, a me Sembra un furto E sì, ci hanno pagato